È una controffensiva in piena regola quella che lancia l'amministrazione comunale dell'Aquila alla sottosegretaria De Micheli sulla questione precari. Il vice sindaco Nicola Trifuoggi, carte alla mano, ha sconfessato quanto dichiarato dalla sottosegretaria, dichiarando, anche a nome di Cialente impegnata a Roma, che le proroghe di 56 contratti non sono possibili, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista contabile. Un duro colpo per i precari che, come ha spiegato lo stesso Trifuoggi, sono stati illusi per troppo tempo sulla possibilità di un loro ritorno sul posto di lavoro. Il sottosegretario De Micheli, come vi ho detto prima e come ho dimostrato mediante documenti, non ha detto la verità. La realtà è che la normativa nazionale non consente la proroga e che, quando anche la consentisse, noi non avremmo le disponibilità finanziarie per poter pagare gli stipendi. Ai precari o a qualsiasi altro. Quindi, sotto entrambi i profili, le dichiarazioni del sottosegretario De Micheli non corrispondono alla verità. Sulla base degli stessi documenti che a noi sono pervenuti dal Ministero del sottosegretario De Micheli. Lei ha parlato anche di qualcuno che vuole illudere i lavoratori ed aizzarli anche. Certo, chi continua a far credere loro che è tutto fatto fino alla fine del 2017, in realtà rende un pessimo servizio a queste persone che si trovano in una situazione drammatica e che hanno bisogno di trovarsi di fronte a delle prospettive realistiche, non alle illusioni di chi racconta le favole. Io ritengo una grossa cattiveria che magari per obiettivi di tipo personale questi lavoratori vengano illusi sulle possibilità che ci sono. Noi abbiamo voluto seguire fino in fondo le speranze di questi chiedendo come ultima spiaggia il parere alla Corte dei Conti. Se la Corte dei Conti dovesse dire che quelle normative emergenziali non sono state superate dalla normativa generale successiva, io credo che non ci sia nessuna difficoltà a prorogare i contratti. Se dovesse rispondere in maniera contraria o se non dovesse rispondere proprio perché è diritto e facoltà della Corte dei Conti di non prendere in considerazione i quesiti, allora il discorso sarebbe naturalmente diverso. Ma questa è l'obiettività, è inutile raccontare favole.